Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. Oggi sono sicuro farò venire l'acquolina in bocca a chi tra di voi sta cercando un casco crossover da strada o strada e anche un po' fuoristrada. Ebbene sì, perché abbiamo due delle novità più interessanti di questo 2019, ovvero Nolan N72GT e Nolan N72X, quindi un po' a rappresentare la sua trasversalità. Due prodotti molto interessanti, Nolan, marchio che conosciamo benissimo da tanto tempo, se ne apprezza la qualità costruttiva, l'ergonomia, la qualità degli interni, il design, insomma, davvero tanti aspetti molto interessanti per un prodotto assolutamente made in Italy, come si vede anche dalla bandierina qua sul casco e come ho rappresentato poi sulla nostra lavagna. Dicevamo N72X e N72GT, del N44, casco conosciutissimo, dicevamo caschi crossover adatti alla moto da strada ma trasformabili, si può utilizzare in diversi modi, sia lui, quello un po' più turistico, che quello un po' più crossover. Partiamo subito con le caratteristiche, intanto cosa c'è da dire? Le calotte sono due per entrambi i caschi, le caratteristiche sono praticamente le stesse, si differenziano un po' per la forma e per alcuni particolari, però le caratteristiche tecniche sono le stesse. Numero calotte 2, calotta realizzata in policarbonato e le omologazioni sono due, ebbene sì perché abbiamo omologazione jet e omologazione integrale. Intanto ve lo faccio vedere il GT, forma riuscitissima, davvero molto particolare, ricercata, bisogna guardarlo con attenzione per apprezzarlo bene in tutti i dettagli perché è davvero molto ricco, tante chicche di design ma anche tante particolarità tecniche, davvero curatissimo. Andate a vederlo in negozio. Omologazioni 2, l'abbiamo detto, poi tre cose che mi sono piaciute molto, ovvero visiera ultra wide più antigraffio, guardate abbiamo una visiera davvero molto grande, si alza dalla parte bassa, vedete che c'è la presa, guardate quanto è grande questa visiera, davvero impressionante, permette di avere un ottimo campo visivo, bellissimo il design, va a coprire la mentoniera, quando però non abbiamo la mentoniera, e adesso andiamo a rimuoverla così vi faccio vedere direttamente, cosa vedete? Vedete che abbiamo una visiera molto pronunciata e quindi permette di avere un'ottima protezione dagli agenti atmosferici, dall'aria, dal vento, e quindi dà una bella protezione alla parte bassa anche se non abbiamo la mentoniera, e tra l'altro guardate, mantiene la presa d'aria anche con la mentoniera rimossa, mentre alcuni caschi anche in passato a concorrenza, ovviamente toglievo la mentoniera dove c'era la presa d'aria e poi mi rimaneva soltanto una visiera come un jet, quindi brava Nolan, visiera ultra wide antigraffio lo abbiamo detto, parasole antigraffio, anti appannamento, protezione UV 400 nanometri, e in effetti devo dire che tra i visierini provati è tra quelli che protegge meglio, basta provarlo subito alla luce e si vede che offre una buona protezione, come sapete in tanti non amo il visierino perché comunque crea un po' di differenza di campo visivo e un po' di luce penetra, quindi preferisco la visiera scura, però devo dire che questa funziona e tra l'altro funziona, guardate, la cosa molto interessante è che intanto arricchiamo con la molla, basta pigiare verso l'alto e il visierino rientra, e poi guardate quanto è ben regolabile e a scatti, davvero un'ottima soluzione, poi premo il tasto verso l'alto, tac, la visiera rientra, davvero velocissimo, guardate, cura nei dettagli perché abbiamo anche quello che io chiamo sottogolo, sottonuca rimovibile con il velcro, il loghettino Nolan, davvero molto molto curato. UV 400 nanometri l'abbiamo detto, ecco, cosa interessante, regolazione più richiamo e poi lo smontaggio perché guardate, davvero velocissima, vado a abbassare la visiera, voglio pulirla, voglio sostituirla, non faccio che questo, guardate, davvero velocissima la rimozione e anche il posizionamento. Paranuca regolabile, ecco, bravi, perché in questo caso, guardate, abbiamo l'elastichino con il loghettino Nolan, io vado a tirare questo elastico con la sua bella chiusura e vado a stringere tutta la parte della sottonuca in modo che mi si chiude bene, quindi è estate, c'è tanta aria oppure è inverno, riesco a chiudermi bene e non avere filtraggio d'aria nella cervicale perché, soprattutto chi è un po' delicato come me, lo accusa. Quindi paranuca regolabile, pinlock di serie regolabile. Altra cosa interessante, tanti hanno la lente pinlock in dotazione, però in pochi hanno, vedete, questa regolazione, quindi senza doverlo smontare io vado a tirare più o meno il pinlock. Perché devo tirarlo? Perché ovviamente il clima cambia, più caldo, meno freddo, il pinlock che ha il bordino in silicone può cambiare forma e quindi in questo modo vado a tirarlo nel miglior modo possibile. Regolabile, poi microlock, ecco il sistema di chiusura, microlock 2. Perché 2? Perché abbiamo sostanzialmente un sistema brevettato da Nolan e vi faccio capire il perché. Praticamente vado a chiudere con un sistema tradizionale microlock, ok? Però per aprirlo devo praticamente compiere una completa, vedete, un completo sollevamento del tastino rosso verso l'alto, altrimenti così, vedete, non si apre. Se invece vado completamente ad aprirlo e a sollevare la parte del ganciato di alluminio completamente, allora sì, si solleva, altrimenti non si apre. Vedete, guardate, tac, è davvero intelligente e ha garanzia, prova di non avere un'apertura accidentale. Praticamente abbiamo concluso con le caratteristiche, però andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio, poi ci spostiamo sull'X. Dicevamo, gli interni di Nolan ci sono sempre davvero molto piaciuti, sfoderabili, lavabili, offrono un grande comfort. Stavo alzando il viserino con la mano, invece abbiamo il richiamo. In questo caso abbiamo poi, lo descriveremo, anche montato il sistema Encom, però è ovviamente acquistabile a parte. Prese d'aria. Prese d'aria abbiamo, allora, una presa d'aria con la mentoniera aperta e questa che porta aria alla bocca. Poi ne abbiamo una, invece, quando abbiamo la mentoniera montata, che è attivabile, lo abbiamo detto, sulla visiera. Poi, sistema brevettato, c'è stato grande lavoro per svilupparlo, permette un'ottima movimentazione dell'aria all'interno del casco con questi cursori. Due laterali più uno centrale, poi ci sono gli estrattori nella parte posteriore. Grande grip, guardate, abbiamo questi micro rilievi che permettono di avere una buona presa anche con i guanti e poi questo bordino che mi permette di avere una maggior sicurezza. Sistema Encom, dopo lo descriviamo velocemente e vi dirò anche il prezzo, ma passiamo su di lui. Eccolo qua, l'X. Abbiamo detto, sostanzialmente, casco molto simile. Presa dell'aria però vedete che cambia. La visiera è un po' più corta, blocco della visiera è questo, guardate, basta premere verso il basso, la visiera si blocca, basta premere verso l'alto e lei si sblocca. Guarnizioni morbide, buona tenuta e sostanzialmente il casco è quello che vedete. Posso rimuovere il frontino, comporlo, farlo diventare getto. Abbiamo ovviamente a disposizione anche le visiere scure perché Nolan, anche per i caschi con i visierini, offre la possibilità di montare la visiera nera. Brava Nolan perché con la visiera scura di giorno si va benissimo e, lo abbiamo detto, personalmente l'apprezzo molto di più. E ragazzi, poi un'altra cosa che mi stavo dimenticando, è importante per chi utilizza la moto in fuoristrada, è che si può mettere la mascherina senza dover togliere la visiera e il VPS. Tagli e tagli andiamo per entrambi i caschi dalla XXS alla XXXL, quindi tripla L, i pesi. Allora, per l'X in versione jet andiamo a 1560 grammi, sempre nelle misure M, e poi 1740 grammi con la mentoniera completa, quindi con il casco integrale. Per il GT passiamo da 1480 a 1640 grammi. Ho praticamente concluso, però come vi avevo anticipato, in questo caso abbiamo montato il sistema Encom, eccolo qua. L'abbiamo già descritto in passato, l'avevo già provato. Molto immediato, molto facile, si sente bene, si connette velocemente con il telefono, facilissimo l'utilizzo. A differenza di alcuni concorrenti è molto immediato il più e il meno l'accensione, quindi non bisogna impazzire, si può quasi non leggere il libretto di uso e manutenzione. Però ecco ragazzi, mi stavo dimenticando una cosa, guardando la parte laterale ho notato il sistema di apertura della visiera. So che siete molto attenti, anche ieri due ragazzi mi hanno fermato e mi hanno ricordato che per un casco avevo citato la facilità di apertura della visiera, poi l'hanno acquistato ed era veramente così. Ecco, devo dire che anche in questo caso N72GT e l'X hanno un sistema di rimozione davvero molto veloce. Guardate, basta tirare verso l'alto e la visiera si stacca. Guardate, vedi, per esempio ci sono questi tre gancetti che spingendo verso l'alto vanno a scomparire, posiziono la mia visiera e la blocco. Ecco, velocissimo, davvero un buon sistema di gancio e di sgancio. Tra l'altro anche con la visiera scura, perché alcuni con la visiera scura sono un po' più difficoltosi. Ho praticamente finito, non mi rimane che indicarvi il prezzo. Allora l'X viene venduto a partire da 289,99€, mentre il GT ha 259,99€. Degli ottimi prezzi, pensando a un prodotto italiano con tantissime chicche molto interessanti, molto curato. A mio parere andate a vederlo perché è un prodotto interessante che merita un'attenzione in più. Ho praticamente finito, però il mio consiglio come sempre è quello di seguire il sito di Nolan, quindi www.nolan.it che vedete qui in basso. E poi ovviamente continuate a seguire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, il nostro canale YouTube costantemente aggiornato di nuovi video. Ma prima della rivederci, devo fare per forza di cose, perdonatemi, ma alcuni saluti ad alcuni miei allievi, ovvero Fabio, Gianpaolo, Luciano, Max e Monica. Perché ci tengo, sono stati davvero carinissimi, abbiamo passato una giornata insieme in moto con il casco ovviamente. Perfetto, ben allacciato, della taglia giusta, mi raccomando, come deve essere. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Recensito. Ciao da Nolan! Ciao!